C'è una sfida a Renzi, lui continua a dire che le istituzioni devono cambiare e il Consiglio regionale del Veneto con la firma di 44 colleghi presenta una proposta di legge statale di modifica della Costituzione che limita a due tutti i mandati a livello regionale, a livello comunale ma anche a livello del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo. Il Consiglio regionale ha modificato la sua legge regionale fissando un limite dei mandati a mio avviso in maniera non corretta nel senso che una legge regionale non può limitare un dettato e un principio costituzionale e quindi ho interpretando quello che il Consiglio regionale comunque ha espresso in termini di volontà politica preparato un progetto di legge appunto di iniziativa del Consiglio regionale modificativo della Costituzione in questo senso.